Ciao e benvenuto nel canale di Dairing.farm. Come ti ho promesso in questo video vi presento quelle che sono le relazioni o meglio gli spezzoni delle relazioni che abbiamo fatto in una giornata didattica noi di Dairing.farm. In modo particolare iscriviti a questo canale attiva le notifiche perché vedrai nei prossimi giorni la comparsa in sequenza di tutti gli spezzoni delle relazioni. Cosa si parla in queste relazioni? Si parla fondamentalmente di futuro della zootecnia in Italia. In modo particolare io vi accenno nella mia breve relazione di benessere animale, sostenibilità. Poi mi seguirà Marzio Miodini che vi darà una visione attuale ma soprattutto proiettata al futuro di quello che è la zootecnia e il mondo latte della vacca da latte in Italia e non solo. Seguirà poi un altro frammento della relazione di Bosello Cristian, medico veterinario che vi accenerà ad alcuni concetti di precision farming. Ci sarà inoltre la relazione di Giovanni Centonze specializzato in sanità mammaria che accenna ai ragazzi di un istituto agrario quelli che sono gli elementi essenziali della mungitura ma anche di quello che è l'importanza del ruolo del mungitore e delle attrezzature. Per chiudere il dottor Gianmarco Durante vi darà un accenno a quella che è la sostenibilità ambientale delle produzioni zootecniche. Quindi se non vuoi perderti le prossime relazioni segui in sequenza tutti i video della playlist, mi raccomando metti un like, iscriviti al canale Dairing.farm se non l'hai ancora fatto e attiva le notifiche, la campanellina che ti aiuteranno a non perdere in futuro tutti i video gratuiti che pubblichiamo qui sul canale Dairing.farm. Se vuoi saperne di più puoi anche andare a vedere il nostro sito aprendo la descrizione del video e cliccando su www.dairing.farm. Ciao e benvenuto! Goditi adesso le relazioni!